il carcere io l'ho incontrato grazie a una proposta che mi è stata fatta informazione ero all'inizio del mio cammino quindi ero impostulato ed era l'anno 2004 c'era un'organizzazione della vita dei seminaristi tra studio e lavoro che nel weekend prevedeva quello che noi chiamiamo l'apostolato ovvero un servizio in qualche realtà dove esercitare a livello pratico un ministero e sempre cose che avevano comunque affinità con il carisma di don orione che ci proiettava in un vangelo concreto a contatto con fragilità ultimi piccoli il mondo dell'educazione il mondo della della carità e appunto io ricevetti la proposta di poter fare un'esperienza in carcere come catechista e iniziai a preparare i sacramenti alcuni detenuti e qui toccai con mano e da vicino che cos'era la dimensione ministeriale nostra nel piccolo nostro perché iniziavamo scopriva scoprivamo un mondo nuovo ma anche la mansione del cappellano è successa una cosa molto interessante perché quando quando sono finito in carcere ho incontrato delle persone che non gliene fregava più di tanto di fare un percorso di fede indotto con i classici canoni di quello che è il catechismo di quella che è la formazione e si è trovato strada facendo un linguaggio che fosse il giusto compromesso tra l'or vissuto ferito il bisogno di sperare e quel che di forte e rivitalizzante che il vangelo dava davvero per cui lungo gli anni ho iniziato a interrogarmi su cosa realmente di cosa realmente avessero fame e quale fosse il modo giusto per coinvolgerli e portare alla loro attenzione delle tematiche che facevano a loro bene il mio diventare responsabile d'oratorio a pavia in un quartiere di periferia dove la parrocchia era la parrocchia di riferimento del carcere e il mio interagire con i ragazzi e l'oratorio mi ha stimolato a una cosa bellissima cioè ho preso un gruppo di ragazzi e con discipline che potevano essere canale veicolo di relazione quali il teatro l'arte la lettura la scrittura creativa il cineforum negli anni si sono moltiplicati ho iniziato a portare i giovani dentro il carcere e trovare dei veicoli affascinanti le cose che a loro piaceva fare guardare le serie tv per esempio che facessero da veicolo nella discussione nell'incontro imparando a sfrondare a grattare nella categoria nella nello stigma trovare la persona perché sono mondi sconosciuti in mezzo a quei giovani siamo consapevoli che ci saranno gli avvocati di domani magistrati di domani ci saranno gli insegnanti di domani i genitori di domani inserire oltre ai volontari il mondo dei giovani il mondo della scuola è qualcosa che mi inebria solo solo raccontarlo per il beneficio che ne traggono loro attiva la loro paternità e vi ricorda davvero un nome anche perché il giovane è molto meno pregiudicante degli adulti e quindi ci va di cuore nelle cose ci va distinto e se sceglie di fare quel progetto va diritto con le emozioni che ha quei sentimenti che ha crede in quel valore lo sposa e il detenuto lo sente e c'è una riqualificazione dell'autostima che è incredibile i giovani hanno questo grande potere e allo stesso tempo c'è la possibilità da parte di chi è dall'altra parte di mostrare la persona e non e non diciamo così i codici i reati o le categorie che la definiscono l'orioninità è il vangelo cioè don orione cosa faceva don orione andava a contatto con delle categorie umane vedendo cristo in queste persone e inventandosi il tutto e di più per portare dio in queste vite la potenza di don orione questa fame e sete delle anime la potenza di don orione è saper vedere l'immagine di dio nell'ultimo degli uomini e sono due o tre le coordinate la fame di anime anime sono due o tre le coordinate io mi chiedo cosa farebbe don orione e quanta follia metterebbe in campo secondo me non c'è niente di più orionino che un cuore capace di divorare queste occasioni per portare cristo e portare cristo non vuol dire indottrinare alla teoria del vangelo e avere dei dogmi che piovono come delle ghigliottine perché in un carcere di cui due terzi sono musulmani e atei e non credenti cioè o hai un fuoco che ti brucia dentro e che ti fa portare nel tuo nella tua povertà nella tua pochezza quella meraviglia a contatto con dei cuori affamati d'amore di fuoco e poi gli racconti che quella roba lì è dio perché se no vai a insegnare un dio teorico teorizzato però io non vedo don orione lì io don orione lo vedo nella persona che di fronte alla ferita che grida si lancia non hanno bisogno di discorsi su dio non gliene frega niente io non ho bisogno che mi fa discorsi gente che mi fa discorsi su dio ho bisogno di gente che mi dà dio prima porti il fuoco prima porti la luce ma nel tuo piccolo nella tua possibilità prima scaldi cuori e poi gli spieghi che cos'è quella roba lì grazie a tutti